Dei pesi massimi Matteo Modugno che nasce a Piacenza del team Loreni di Passport, di Marco Urg, Fabio Tujak, sempre del team Loreni di Passport. Li vedremo tra poco qui sul quadrato. Noi invitiamo sul ring l'arbitro del titolo italiano, il signor Sergio Dagnano. Riccardo. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.